Questa immagine rappresenta come era nel 1929 corso metaponto. Si possono notare le tipiche lambie e la parte più alta del paese, il campanile della chiesa di Sant'Antonio. In basso era situata una fontana molto grande dove i contadini abbeveravano gli animali al loro ritorno dalle campagne. Questo era anche il ritrovo dei traini che provenivano dalle masserie del territorio. Attualmente in questa zona soprannominata Upont è ubicata la tabaccheria La Viola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.